ragazzi ragazzi buongiorno oggi avremo un messaggio per te per adesso non lo so di cosa parleremo faremo una libera canalizzazione come dicono altre ragazze su youtube faccio parlare le carte vi ho impostato per adesso così perché io mi raviglio sempre come mi piace proprio il mio posto di lavoro volevo dire una cosa ai fenomeni che sono stati cancellati dal mio youtube canale e ci saranno sempre questi fenomeni ripeto fenomeni cancellati perché i fenomeni perché commentano i miei video una ragazza ha lasciato più di 60 addirittura messaggi sui miei video sotto miei video si è unito con un'altra e stanno lì a scrivere le cose negative di me pensando che io non vedo e che io lascerò a loro esclusiva di vedere i miei video alle persone come queste io volevo dire ma non solo a queste persone in generale il mio scopo è guidare le donne le donne adulte le donne bambine di 50 anni parlo di quelle bambine non quelle che sono veramente bambine perché sono giovani ma io parlo di donne infantile bambine che invece di migliorare propria vita cercano di incolpare altro io quelle persone sul mio canale non li voglio quindi se voi dovete dirmi che io sono negativo e chiedo a voi sempre di cambiare voi dovete cancellare dal mio canale perché le donne adulte hanno la speranza le donne adulte capiscono quello che parlo le donne adulte risprendono la responsabilità dalla propria vita e cambiano e cambiano cioè cambiano vita cambiando se stessa le donne bambine sono ma come sei negativa ma tutti i tuoi video sono negativi ma perché parli sempre del cambiamento io non devo cambiare io sono perfetta così quindi questi ragazzi saranno cancellati dai miei canali da tutti i miei canali se qualcuno non ha cancellato perché forse non ho visto oggi ho visto e ho cancellato quindi facciamo una bella pulizia perché voi non pensate che mi potete scrivere queste cose io vi lascerò qui no io voglio un ambiente pulita io mi canale li voglio puliti e se voi avete problemi con me almeno stati la tenetelo per per voi insomma non che voi mi venite a scrivere brutti cose sotto i miei video e pensate che io vi lascio così no non esiste quindi volevo dire questo poi un'altra cosa proprio per per la riflessione a me mi capita di incontrare le persone uno mi diamo incontro una persona che mi dice io anire dice io credo in dio io prego tanto però la mia vita non cambia solo succedono le cose brutte e io dico quando ti è successo una cosa brutta come con me questa cosa per esempio io pregavo un aumento di stipendio chiedevo al dio questa cosa e invece è arrivato una vipera al mio lavoro e le cose sono andate ancora peggio per esempio un esempio io le dico se tu stai chiedendo al creatore una cosa invece di darne di aiutarti come dici tu ti sta dando una problematica un problema devi capire che questo problema è stato proprio l'aiuto per te le dice ma come problema per me è un aiuto no sì sì in senso sì è un aiuto perché se tu sei un adulto tu andrai a pensare perché mi hanno dato questa questa cosa perché mi è successo cosa devo capire perché se tu hai fede nel tuo cuore e sei una donna adulta non una bambina ok bambina quello che avevo detto che va incolpare tutti tranne se stessa quindi se tu sei adulta tu ti fermi pensi perché mi succede cosa vogliono dire tra un universo cosa di vuole dire dio cosa vuole dire cosa c'è che non va e io vi dico quando voi incontrate piccole difficoltà siete fortunati perché ci sono persone che vivono una pace serenità una tranquillità senza problemi e poi a un certo punto cade il mondo tutto insieme quindi non mi ricordo adesso chi l'ha detto ma vi dico se a te non succede niente nella vita tutto liscio tutto pulito perché che di per significa che creatore ti ha dimenticato perché a noi tutti qua siamo ora non c'è non ci agganciamo questa frase creatore ti ha dimenticato ti ha dimenticato ha dimenticato di darti i compiti questo significa perché noi tutti su terra siamo per imparare quindi possiamo imparare piccole cose ogni giorno non lo so io per esempio se per esempio oggi se io ho avuto un discorso negativo con una mia vicina di casa una liti mi chiamo non proprio liti ma mi sono agitata io vado a chiedere perché cosa c'è cosa mi ha toccato questo significa essere adulto e questo significa crescere migliorare imparare ok io non vado a dire ma no questa è una stronza mia vicina lei non ci sta con la testa o lei da tanto tempo non fa non fa l'amore a me non mi frega perché questa vicina è così come quello che mi interessa è perché io ho reagito in modo negativo perché a me mi ha stuzzicato vuol dire che c'è qualcosa in me aperto altrimenti lei non mi avrebbe stuzzicato lei non mi avrebbe cioè mi proprio come l'acqua mi sarebbe scivolato tutto però se mi ha stuzzicato vuol dire che c'è qualcosa io vado a capire questo un'altra volta ripeto questo significa essere adulti cambiare sempre il mio obiettivo aiutare chi mi guarda il mio obiettivo non è accarizzare la tua autostima dicendoti tu sei bravissima bellissima è lui un bastardo come se ha permesso lasciarti così bellissima è bello sentire ma io penso che youtube ci sono tantissimi canali che dicono questo e queste parole non funzionano perché sono come dire ipocrisia si dice sono fake parole fake quando io inizio una stesa io sempre faccio la meditazione prima di iniziare e io chiedo di darmi informazioni vere di darmi energia pulita energia pulita significa verità energia negativa e la bugia quindi certo sono un essere umano e posso sbagliare come tutti posso fare un errore però la mia il mio intento è pulito dire la verità il miglior modo possibile per aiutare prossimo questo è il mio obiettivo ogni giorno sia che con video che con le persone che vengono in privato da me questo è il mio intento se non c'è non c'è tu sei bravissima bellissima è lui un bastardo se questa informazione non c'è io non te lo posso dire questo volevo dire e siccome questo questo video si chiama un messaggio per te anche questo è un messaggio per te un messaggio proprio per riflettere ripeto non qualcuno mi può scrivere perché sempre mi scrive qualcuno non ti devi giustificare non mi sto giustificando io sono un personaggio pubblico e magari con il mio esempio qualche ragazza qualcuno anche posso incoraggiare perché poi mi arrivano anche ragazzi sui consulti ragazzi in privato scrivono in privato dicendomi che tu mi hai aiutato tu mi hai aiutato avere il coraggio tu mi hai aiutato cioè tipo jana d'arca sto scazzando ovviamente anche io sono molto molto imperfetta e ce l'ho tanto tanto da lavorare e sto cercando di lavorare e questo è il punto sto cercando di lavorare ho fatto la altre cose ora un anno ultimo stavo facendo il tetra healing sempre non perché sto non perché sono proprio ammalata ma perché io ci tengo a migliorare e ci sono tante persone messi molto peggio di me che pensano di essere perfette e questa questa è già poveri quelle persone proprio con sincerità dico poveri sì allora vi ho detto questo e ho perso quello che ancora volevo dire vedete com'è bello tutto verde io mi abbasso la testa eccola guardate avete visto? ho abbassato la testa adesso possiamo iniziare la prima cosa che io voglio vedere lavoro con questo bellissimo mazzo di zombie io con questo mazzo ho fatto anche le ture private oggi proprio questo mazzo amo lavorare io per un po' di tempo lo tenevo lì in scatola se vedete e oggi l'ho preso per lavorare ed era molto contento allora la prima cosa che voglio vedere è chi sei tu in tre carte di scrivere te poi vedi se tu senti che questo video è per te, ricordati sempre che abbiamo solo un'unica variante ed è normale che non può risonare a tutti a chi appartiene video riconosce e poi il video bisogna ascoltare con il cuore pulito se ci sono, se arrivi se arrivano quelli fenomeni di quali ho parlato subito con l'intento di sentire solo le cose positive e per ogni cosa mia non tanto piacevole subito le spini subito cactus allora lì è come illudere se stessa non ha senso ascoltare video allora non ha senso di illudere se stessa sede denaro il dovere il mio dovere dire la verità video il lavoro il proprio tempo mamma mia mamma mia ok allora la persona che sta davanti chi è? questa persona la ombra di persona che sta davanti tutti abbiamo ombre e la luce vota di bastone vota di bastone è tanta energia ecco anche imperatrice crescita qui la persona che mi sta guardando sta in crescita ci sono nuovi obiettivi c'è tanto da fare insomma vediamo red di denaro chi sei tu red di denaro sei una persona allora come persona chi sei? sei una persona con qualcosa di maschile nel carattere quindi con red di denaro è una persona che sa guadagnare soldi sa costruire la stabilità nella vita quindi come dico io la persona sei donna quindi è uomo è mamma è babbo hai queste qualità quindi qualità di cioè io sono generosa cioè tu sei generosa tu prendi cura di altre persone magari aiuti materialmente qualcuno tu sei stabile fisicamente materialmente in senso volevo dire stabile perché ti sei creato già qualcosa hai un buon lavoro sei come la fornica a quale piace lavorare è importante la parte materiale di vita i finanzi insomma carriera è questo il red di denaro è una persona protettiva quindi sei tu sei protettiva è una persona che prende iniziativa potrei parlare ancora ancora tanto però come difetto può essere che sei attaccata tanto alla tua materialità ok o almeno in questa fase della tua vita sei tanto attaccata alla materia allora a guinsale o qualcuno vuoi portare due di denaro ombra allora due di denaro ombra adesso devo dire ombra non significa che tu sei sempre così ombra è quando sei molto stressata quando tu vivi un periodo di stress quando vivi ci sono quegli momenti nella vita quando c'è sempre stress 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 quindi in quegli casi ombra può essere attiva ok ci sono le persone che tutta la vita vivono solo stress e allora lì c'è tanto rischio che ombra sarà attiva tu non hai una brutta bruttissima ombra tu ce l'hai ombra di due di denaro due di denaro quando vuoi stare seduta da noi si dice sono due sedi io voglio questo e voglio altro io ho questo uomo però mi piacerebbe avere anche quest'altro uomo questo è un esempio solo perché questi due uomini sarà un uomo ideale per me viviamo in tre è un scherzo adesso due di denaro è quando voglio questo e questo io voglio così io voglio essere la mamma ma voglio anche studiare io voglio essere la moglie perfetta ma voglio anche fare la carriera ma questo è anche giusto sì però ci sono le situazioni dove devi scegliere e per te sarà difficoltà di scegliere e tu inizierai a dubitare magari io meglio voglio essere mamma no no meglio carriera no voglio carriera e in quelle situazioni dove bisogna proprio scegliere tu cosa vuoi per te può essere difficile di scegliere e tu preferirai tenere tutti due sei in un negozio di scarpe non sai quale scarpa scegliere prendi tutti due in questo caso si può però ci sono situazioni che questo può essere un ostacolo allora la luce sete di copie come la luce tu sei una donna piena di idee te hai una bella fantasia tu puoi inventare tante cose le persone di sete di copie sono molto creativi inventano cioè tu puoi inventare non so una macchina del tempo ma questo è proprio magari esagerato tu puoi inventare qualcosa cosa che altri non hanno inventato ancora insomma tu sei questo tu puoi anche essere tu diversa avere oggi tu sei cenerentola domani tu sei wonder woman dopo domani se non so principessa addormentata ora mi viene solo così sei diversa ma diversa interessante insomma colorata nuova le persone così sono belle insomma sempre nuova imprevedibile si può dire ma imprevedibile in senso buono ok quindi questo è se tu ti riconosci rimani con me allora vediamo di cosa ti vogliono parlare le carte quindi ti vogliono parlare di papessa ma questa papessa sembra una sciamana quindi secondo me ti vogliono parlare di donno oppure di una rivale quindi adesso bisogna capire una rivale che sta facendo una macumba alle spalle vediamo di cosa vogliono parlare le carte ti vogliono parlare di te o di qualcos'altro si ti vogliono parlare di te e qui abbiamo la papessa e abbiamo la luna 4 di denaro e 3 di copia si ti vogliono parlare di una chiave ti vogliono parlare di un donno che tu hai con queste carte a me mi viene da pensare che ti hanno dato un'arma o tu questa arma non conosci ancora oppure tu non sai usare perché arma ce l'abbiamo guardate come queste sono queste due carte la papessa che sembra una sciamana e anche la luna con la chiave vedete c'è chi è questo è un corvo sembra un corvo che sta portando questa chiave di notte secondo me tu hai i sogni fai sogni come si chiama? promenatori tu puoi ricevere attraverso i sogni dei segnali importanti che tu questi o non sai riconoscere o non capisci o non dai valore abbastanza ma mi stanno dicendo la prima cosa attraverso i sogni a te arrivano sicuro attraverso i sogni a te arrivano messaggi importanti che tu devi interpretare ok? non è solo i sogni dopo approfondirò questa cosa quello che mi fanno vedere qua è che tu dai per scontato non prendi sul serio quello che sta succedendo può essere che tu hai sempre fatto sogni strani e sei abituata a sognare però in questo periodo della tua vita i tuoi sogni proprio urlano ti dicono guarda quello che ti dicono dai giusto valore insomma un'altra cosa mi fanno vedere che tu riesci a capire la verità tu riesci a vedere la verità perché mi dicono che tu non lo dai per scontato sei con la leggerezza verso questo perché ripeto o tu non ti fidi di te stessa non lo so ma quello che tu devi sapere adesso è che ora è arrivato il momento di essere più percettiva e più attenta a quello che ti arriva perché tu vedi la verità devi fidarti devi fidare di quello che ti arriva andiamo a vedere ancora apriamo questa papessa con la luna vedi siccome tu ce l'hai anche sette di coppe una donna che può vedere visualizzare le cose deve stare tanto attenta perché questa energia con questa sette di coppe può essere un pericolo perché pericolo? perché se tu immagini cosa brutta ti accadrà quella cosa brutta se tu immagini bello sempre immagino solo belle però non sempre noi immaginiamo le cose belle quindi devi sapere questo devi stare attenta questa cosa vale anche visto che i miei canali sono dedicati alle relazioni devo dire questa cosa se tu hai un uomo a fianco a te e tu vedi che questo uomo si comporta in modo negativo nei tuoi confronti cioè è negativo nei tuoi confronti e tu dici ah lo sapevo lo sapevo che sei così lo sapevo che mi hai mentito lo sapevo che tu mi mentirai mi tradirai ancora qualcosa devi fare attenzione perché può essere che questa persona non ti voleva fare niente di male non ti voleva mentire ma siccome tu eri così convinta che sarà e lo immaginavi proprio e tu hai questa energia pazzesca perché è un'energia di strega ma attenzione a chi è molto religioso e dice io non sono strega io dico strega ma la strega non significa quella strega cattiva va bene particolare sei psichica in vecchi tempi le streghe erano tutti quelli che qualcuna è più empatica poteva essere una psicologa era considerata come strega e bruciata cioè la strega non significa quella come nelle favole quella bifana cattiva non so ok perché noi ce l'abbiamo solo una strega nella nostra cultura Baba Yaga si chiama quella con naso lungo e quella vecchietta tipo oppure quella vecchietta si trasforma e diventa bellissima ragazza e con tua sete di coppia tu potresti cambiare il look cambiare cioè fisicamente come un fameleone potresti proprio sì ora io sto ridendo però c'è la verità c'è per esempio io anche ho praticato questa cosa si può meditare immaginando una maschera io per esempio devo incontrare con una persona questa persona mi deve fare un favore io vado a visualizzare immaginare una maschera va bene io immagino perché per me è più comodo puoi immaginare un vestito non maschera magari la parola maschera non ti piace un vestito tu ti puoi immaginare un vestito magico che tu ti lo indossi con le qualità con le qualità che ti servono per questo collocco di lavoro o con non so dipende cosa vuoi fare non so devi incontrare con un ragazzo che ti piace e tu vai a affascinarlo lui ti piace tanto fai medita immagina un vestito magico o una maschera magica per me è più semplice maschera ricordate quel film masca maschera verde tipo mask dove lui si metteva sulla faccia e faceva supereroi insomma quello verde quindi per me è più semplice maschera quindi tu veramente ce l'hai questi poteri ti piace ragazzo tu puoi visualizzare immaginare creare questa maschera o questo vestito magico con le qualità quale qualità non so ti manca sicurezza metti in questo tuo vestito magico la sicurezza la fiducia in te stessa tu sei una donna timida e questa cosa ti disturba al primo appuntamento allora metti in tuo questa maschera questo ingrediente tipo questa maschera cosa avrà avrà una cosa magica che di me crea una donna più sicura una donna non timida una donna scherzosa quello che ti manca insomma tu te la sei visualizzata immaginata questa maschera dopo tu la sei messa ok mentre mediti però per fare questo bisogna meditare per arrivare a questo bisogna meditare e togliere prima bisogna togliere i pensieri la mente deve essere zitta e dopo fai questo hai messo e dopo vai appuntamento io ragazzi questa cosa faccio da parecchio tempo con la polizia per esempio io cammino con la macchina io vedo lì la polizia e io non voglio che mi fermino devo tirare tutti i documenti devono controllare io non voglio questo io voglio andare io ho sempre fretta quindi io immagino il vestito di invisibilità sulla mia macchina sempre però bisogna fare attenzione io lo so io metto il vestito di invisibilità la mia macchina è gialla proprio si vede passato la polizia dopo tolgo invisibilità funziona per qualcuno può sembrare matto pazzia ma non è pazzia funziona più tu indossi questa maschera più funziona e tu queste maschere tu le puoi creare e tu tu soprattutto tu con questa energia te la puoi creare le maschere tu puoi creare puoi creare uomo ideale per te no vabbè tu uomo ideale non puoi creare perché esiste un libero arbitrio però se tu hai un compagno un ragazzo che ti piace e tu vuoi che questo compagno si comporta bene con te non so sia più romantico più affettuoso tu non puoi ipnotizzarlo no perché esiste sempre il libero arbitrio però tu puoi influenzare nella sua scelta magari tu sarai più cocolosa e lui di conseguenza sarà più affettuoso perché gli piace quando tu sei cocolosa è una cosa su cui bisogna fare la prova pratica quindi di questo cosa volevano parlare con te le carte apriamo papessa con la luna matto e perdita perdita di entusiasmo perdita di entusiasmo perdita di entusiasmo allora questo è un messaggio non lo so per chi lo devo dire ma devo dire qualcuna di voi credeva già di avere un dono particolare non lo so magari tu hai provato hai provato di usare la maschera hai provato di leggere i tarocchi o hai qualcosa tu hai provato qualcosa che ti piace qualcosa che appartiene al mondo magico e hai provato e probabilmente non sei riuscita le carte mi dicono che tu hai perso entusiasmo e questa è una grande prova molto spesso succede questo allora per chi ha perso l'entusiasmo vediamo cosa vogliono dire le carte guardate ho tirato resina di bastone la stela cosa devi sapere lotta di fortuna è stato o sarà è stato e sarà madonna allora vedi non è un caso che io ho parlato vedi tutto sulla giustizia è la verità sto dicendo proprio non è un caso che io ho parlato di quella cosa all'inizio di video di cambiare no di provare di capire perché è andato così come è andata perché le carte mi dicono che tu hai perso un pochino di fede un pochino di entusiasmo magari hai smesso di credere in miracoli perché hai provato diverse volte di fare qualcosa di credere come bambini quando siamo bambini crediamo in Babbo Natale crediamo in Bacchetta Magica crediamo in tante cose e dopo scopriamo che oddio Babbo Natale non esiste o Bacchetta Magica non si può creare è una delusione e dopo lì che si rompe il vaso e tu inizi a dubitare su tutto magari mi hanno fregato i genitori di questa esistenza di Babbo Natale allora tutto fregatura queste sono le crisi però questa fede bisogna ritrovare dentro se stessi questa è la nostra scelta quindi io vedo che tu come questo bambino che ha saputo che Babbo Natale non esiste quindi tu ce l'hai qualcosa di così dentro di te mi fanno vedere che il divino proprio sta ridendo divino vi metto queste carte vicino magari divino sta ridendo perché ti danno queste problematiche ti danno queste difficoltà cioè le difficoltà che ti hanno portato a non credere proprio perché vogliono di te costruire qualcosa di meraviglioso regina di bastoni con la stela ti vogliono cioè vogliono che tu diventi una donna spirituale una donna con altissime vibrazioni e che tu acquisti la tua sicurezza di te loro vogliono quindi non è un caso quello che ho parlato che se ti è successo qualcosa di negativo fermati e prova di capire perché è successo cosa devo capire cosa questo ok quello che ti è stato successo è stato può sembrare possono sembrare le casualità ma non erano casualità era tutto pianificato la ruota di fortuna era pianificato per aiutarti a capire le cose gli erafanti con l'attore sembra che loro vogliono il divino diciamo così il divino vuole cambiarti la fede cambiarti la fede non significa che tu devi smettere di credere ok ma devi credere in un altro modo io ho sempre creduto in Dio e questo è un esempio ho sempre tutta la vita però io andavo in chiesa è stato un grande trauma per me perché io leggevo carte da piccola e sono stata con la nonna a chiesa lei mi portava sempre a chiesa e in una chiesa ragazzi non è un caso che io ce l'ho questa pigiama perché in quella chiesa io avevo un giubbotto color carne con queste maniche e io ho provato di accendere la candela e tutta la chiesa si è spaventata perché questa mia manica ha preso fuoco e era impressionante tipo oddio malifica questa non dico la parola che mi è stata detta usi carte guarda prendi fuoco in chiesa ma ora non mi ricordo male ero piccola chi ha detto mi sa che è vicina di casa che è stata con noi non la mia nonna ovviamente ora non mi ricordo bene con chi era con noi però mi ricordo questa cosa che mi ha impressionata e mi ha messo proprio la convinzione che oddio faccio qualcosa di male e mentre sto raccontando io penso che per qualcuno per tanti di voi anche risuono perché è proprio questo ci sono le persone che sentono di dover comprare tarocche io ora quando sono stata a Fiera di Oriente volevo comprare un libro di tarocche di tarocche ho visto era carino e stavo guardando per comprarlo ed erano due ragazzi che guardavano tarocche vicino a me proprio non era un caso che sono venuti vicino a me e una ragazza dice sai che io da tanto tempo voglio comprare le carte e quella altra dice e perché non compri no non posso io sono credente io sto dito io lei mi piace le tocco io sento che questa ragazza è pronta di comprare tarocche e io non è che io sono andata a fare non sono una così che fa cavole loro no io ho chiuso occhi e ho chiesto al creatore devo dire o non devo dire mi hanno detto di dire io ho detto che comprali questi ora non mi ricordo ma qualcosa le ho detto tipo compra se tu senti questo feeling con le carte significa che ti hanno scelto significa che ti chiamano e ora non so come è andata a finire mi sono tolta io ho detto quello che dovevo dire e poi non lo so se le hai comprato però vedete che queste convinzioni distruttive pregiudizi proprio bloccano noi e tu hai paura di comprare tarocchi mettiamo questa ragazza di questo esempio hai paura di comprare tarocchi lei si è comprato alla fine mettiamo che si è comprato ha portato a casa queste tarocchi e quel giorno ha litigato tantissimo con finanzato oddio mio fino al mondo questi tarocchi portano la sfiga io non li butto non li toccherò mai insomma tutto questo che vi sto dicendo è per dirvi quello che dicono le carte e che tutto quello che ti è stato successo che magari ti ha tolto un po' entusiasmo ti ha tolto la fede era per farti più forte per ricredere per scegliere bene in cosa tu credi perché ragazzi anche questo devo dire gli raffanti con l'attore io con il mio esempio faccio perché sicuramente per qualcuno è importante non importa che cosa fai poi che lavoro fai che hobby hai se ti piacciono tarocchi se sei un psicologo o sei un avvocato non importa cosa stai facendo io per esempio ho il costo di data healing noi abbiamo una ragazza un avvocato una ragazza e lei fa il data healing io ho pensato che se io avrò bisogno di avvocato io ho contato lei perché lei è un avvocato di luce di una nuova generazione diciamo così è un avvocato risvegliato quindi perché lei studia insieme a noi lei è bravissima intuitiva proprio vi immaginate che lei ha un'arma avvocato e un altro arma data healing e wow come lei può aiutare le persone e non importa cosa stai facendo qualsiasi cosa fai quindi quello che io volevo dire di me è che io ho sempre cercato di studiare tutta la vita stavo studiando però se io prendevo per esempio Vadim Zeland Transurfing io in un periodo della mia vita ero innamorata proprio di suoi libri di sua idea di quello che lui stavo insegnando Transurfing Transurfing di reality Vadim Zeland se qualcuno interessa mi piaceva tanto come lui spiegava spiegava la realtà al mondo insomma come funziona tutto dopo però io ho conosciuto un'altra pratica e ho sempre cercato la mia verità io ho preso un pochino da Transurfing dopo un pochino da Dispensa dopo un pochino e dappertutto ho preso un pochino quello che mi risuona non c'è anche nei tarocchi se studiate tarocchi non serve dice ora io prendo un esempio ragazzi io penso che chi deve capire capirà cosa dico non rà allora vuoi studiare tarocchi ti iscrivi a un corso sì il corso può essere utile a me personalmente non mi piace perché perché ti insegna la maestra di tarocchi ti insegna ti dà una visione ma per carità può essere una bravissima maestra però quello medie di maestre ti insegna una cosa ti dirà così così colà e tu dopo non hai la tua libertà di sentire le carte perché le carte sono una cosa così personale come tu le percepisci queste carte come tu le capisci la tua visione cioè un insegnante in questo caso di tarocchi come io sto dicendo proprio in esempio può essere qualsiasi altra cosa ti dà una visione ti guida ma il resto la strada la sceglierai tu come lavorare che significato dare carta di garafanti ha così tantissimissimi significati ma prima di tutto bisogna capire che cos'è questa carta che energia dà il garafante è qualcosa genitoriale tipo come per un bambino o un genitore babbo mamma qualcuno che lui deve rispettare e anorare cioè in mia visione genitore si dovrebbe e tu ti insegna questo genitore e tu lo rispetti e cerchi di obbedire ma però poi quando tu cresci tu decidi tu decidi fare come ti hanno insegnato i genitori oppure trovare una tua verità trovare una tua strada e ci sono genitori che impostano e diventano tossici che rovinano i bambini e ci sono quelli che ti danno la scelta libera di scegliere come interpretare le carte come lavorare con le carte io penso che avete capito quindi quello che le carte stanno dicendo è che tu hai avuto le problematiche avevi perso entusiasmo la fede ma tutto questo è successo perché volevano come con questo esempio creare di te una tua verità di trovare la tua casa tra le virgolette tua strada questo volevano di te mi si addormentato la gamba forse io ho già detto tutto e per questo motivo mi si addormentata allora un consiglio per te di tutto quello che noi abbiamo visto oggi 9 di coppia nel mondo ma questo mi viene da dire fai quello che vuoi ma non come tipo fai quello che ti pare no magari mentre io parlavo se tu sei arrivata a guardare video fino a qua tu sicuramente già lo sapevi più o meno come abbinare questa informazione alla tua vita queste carte ti dicono vuoi? fai se vuoi fai continuo vai il tuo desiderio tipo sia vero il tuo piano sia vero il cerchio sarà chiuso potrai ottenere quello che vuoi quindi tipo come che carte ti vogliono incoraggiare che tipo tutto andrà bene questo 9 di coppia con il mondo ok io diciamo che io ho finito sì però voglio suonare la campana non abbiamo suonato all'inizio suoniamo adesso perché io suono la campana chi non lo sa perché io voglio io non sono un dio non posso fare tutto voi siete i vostri creatori di vostra vita e quello che posso fare io io chiedo dalla parte mia io chiedo di aiutare a cambiare energie di blocco dove c'è qualcosa di come dire immaginiamo come un'energia scorrere liscia no e in questa energia è tipo un piccolo nodo dove energia difficilmente scorrere quindi io questi piccoli blocchi voglio che si sciolgano con questa bellissima melodia di campana perché la campana ha un potere la campana e questa questa melodia musica di campana questo suono si dice suono appartiene al sesto piano di esistenza e questo piano di esistenza sta sopra divinità anche quinto piano divinità angeli quindi per farvi capire che veramente funziona e guarisce questo suono andiamo a E io ho finito, raccontate, scrivete messaggi, commenti, chi non mi segue su Aniria Tarot, welcome, potete seguirmi anche su Instagram, io spesso condivido lì le foto, link dei video nuovi che escono su Instagram, sempre Aniria Tarot, e state attenti ai truffatori, questo, perché ricordate sempre che il mio profilo originale contiene i miei video e quasi tutti i video ce l'hanno questa atmosfera, c'è un numero di telefono su ogni video e io non scrivo nessuno messaggio, io rispondo ma non scrivo, non mi offro, quindi ricordate perché ci sono queste persone che fingono di essere me, io vi saluto, vi bacio, ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti